Questo è il nuovo numero della rivista svedese OEI, numero 67-68, appena uscito, ha preso il titolo di scrittura non assertiva, è curato interamente per quanto riguarda le traduzioni da Gustav Sjöberg, l'introduzione iniziale è interamente in svedese, si apre con dei testi di Simona Menicocci, Michele Zaffarano, Marco Giovenale, con degli interventi grafici, una intervista e dei testi, scorrendo rapidamente l'indice per evitare di annoiare chi guarda questo video, troviamo, come si può vedere, una quantità di altri testi di autori, Mario Corticelli, Corrado Costa, di Costa viene riprodotto interamente il fiume, poi altre cose, di Costa, di Balestrini, interventi critici, ne troviamo anche non pochi, di Cecilia Bello Minciacchi per esempio, vedo più avanti un'intervista a Baruchello, un testo di Furio Iesi, un testo di Antonio Loreto su Balestrini, parecchi testi di Nanni Balestrini e anche di Jacqueline Risse, ci sono molti altri materiali che possono essere visti scorrendo l'indice, chi vuole può mettere in pausa questa e questa immagine e rendersi conto del lavoro che è stato fatto dalla redazione, molto ampio, il volume è di oltre 500 pagine, ci sono cose anche di Patrizia Vicinelli, come si vede, di Emilio Villa, gli altri autori molto giovani sono appunto Teresa Davoglio, Giulio Marzaioli, Silvia Tripodi, Pietro D'Agostino con delle immagini, Giorgia Romagnoli e poi ci sono dei nomi storicizzati nella loro ricerca tra Miccini, Ori, ovviamente abbiamo visto prima Spatola e altri. L'aspetto ovviamente grafico il verbo visivo è molto ampio e anche semplicemente scorrendo come sto facendo ora le pagine del numero se ne può apprezzare la ricchezza. C'è molta parte anche di documentazione, dei fermo immagine, per esempio dalla verifica incerta di Baruchello e Crifi, ci sono cose dei balestrini come si può vedere, materiali grafici anche appunto degli autori antologizzati sul fronte testuale, quindi per esempio Michele Zaffarano o Mariangela Guatteri, anche alcuni materiali da rivista. E se non sbaglio riprodotto interamente, cosa che mi fa particolarmente piacere, Brandt, uno dei testi più belli forse di Emilio Villa. OEI 6768, scrittura non assertiva.